Bene, ci siamo quasi ultimi preparativi alla Sala Favetta del Museo delle Genti di Abruzzo a Pescara, dove domani vi racconteremo i primi 180 giorni della giunta Marsilio. L'appuntamento è per le 11 qui in Sala Favetta a Pescara e in diretta sulla pagina Facebook della Regione Abruzzo e su Twitter Regione underscore Abruzzo. Vi aspettiamo!